Siamo arrivati alla quarta edizione della festa della birra con numeri ogni anno sempre più grandi. Quest'anno poi già abbiamo fatto tanta pubblicità quindi ci aspettano tutti i nostri sostenitori, tutta Mottola e anche nei paesi vicini. Quest'anno poi abbiamo la fortuna di avere i Palasport come prima serata di venerdì 11 che sono la cover ufficiale dei Poo già premiati dai Poo sul Rai 1 quindi sono molto conosciuti, è una band molto attiva diciamo. Poi abbiamo la seconda serata con il sosia di Michael Jackson, si chiamano i Jackson Clan conosciuti molto sul Barese anche sulla provincia di Taranto e la terza serata i nostri cari amici dei Modando che sono la cover ufficiale dei Modà che viaggiano con noi già da tanti anni, infatti sono stati presenti con la prima edizione della festa della birra e sono stati riproposti perché hanno dei numeri favolosi e attirano molta ma molta gente. Un invito a tutti perché ci sarà della buona carne, del buon pesce, delle fritture, dei gelati buonissimi con tanta e tanta tanta gastronomia e soprattutto tanta birra fresca che quest'anno proponiamo anche birra rossa, nera, doppio malto, birra peroni forte abbiamo delle varie scelte di birra che fino all'anno scorso non c'erano per non andare oltre E non dimentichiamo la Raffo La Raffo è quella ufficiale perché da buoni tarantini non la possiamo abbandonare la Raffo specialmente alla Spina perché è molto molto più buona di quella in bottiglia E c'è spazio anche per i bambini? Certo, ci saranno dei gonfiabili, otto giostre per i più piccoli e un po' anche per bambini più grandi Ci saranno delle sfilate di moto, di centauri E' una serata molto piena già dalla prima all'ultima Io vorrei dire subito il premiare, il coraggio incomiabile di queste nostre associazioni culturali e di questa grande edizione che come si è detto è cominciata così in sordina ma sta arrivando a livelli notevoli E che dire, l'amministrazione tenderà sempre le mani affinché questa festa della birra sarà anno per anno porterà sempre più gente, porterà sempre più presenze e quindi sarà dato tutto il nostro sforzo affinché sarà appoggiata e sostenuta questa festa come tutte le altre